magari oltre a ridere di gesù di ridere gesù ficare piccone rideranno anche di questo mio video perché perché sono superiori loro loro sono esseri superiori io provo molta pena per loro provo molta prova molta molta pena per loro mi hanno girato il trailer del loro film santo cielo dove dove di fatto con con i modi di fare gli attori il regista lo sceneggiatore gli attori stessi tutti di fatto bestemmiano nei film perché non avesse visto la trama scandalosa vergognosa 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 considerando che l'italia ha tanti cristiani e non avendo doti non avendo doti come attori non avendo una storia è uno scena evidentemente una sceneggiatura dietro decente avendo una regia pessima non avendo il di fatto qualcosa da raccontare a livello cinematografico perché non sono attori sono due giullari no essendo giullaride della tv due comici due comici ovvero detti giullari andando indietro nei secoli non hanno nulla da raccontare non hanno arte non hanno né arte né parte loro che fanno per poter vendere due biglietti in più il dubbio è più che lecito hanno deciso di fare un film dove offendono Gesù dove offendono Gesù non so se abbiate visto il trailer ma la trama è molto semplice il dio questo congresso qua nell'aldilà decidono di mandare sulla terra un nuovo messia no nuovamente Gesù rimandare Gesù e sarebbe lui no sarebbe lui sulla terra e deve andare a ingravidare una donna si sbaglia e ingravida lui che è un uomo una regia perfetta una storia perfetta disegnata e costruita da da chi ama e rispetta satana nulla di più nulla di meno mi dispiace per queste persone questi due per questi due giullari giullari ovvero comici giullari andando indietro negli anni una volta erano giullari mo li chiamano comici ma rimangono giullari mi dispiace perché dimostrano di non avere rispetto delle persone rispetto di gran parte degli italiani chi andrà a vedere al cinema questo film non farà altro che andare a fare un un assist un passaggio a satana nulla di più perché non è un film non è un film degno è un film indegno è un film profano è un film che offende che che offende e quando Gesù tornerà veramente tutti i giullari del mondo tutti i giullari del mondo finiranno davanti a lui quindi mentre adesso ridono mentre adesso fa le risatine con la loro satira che non è satira è demenzia e demenza e demenza e demenza a livello di a livello e di comicità è una comicità demenziale c'è che esiste anche la comicità demenziale questa comicità demenziale è veramente triste è veramente triste quello che hanno fatto questo film e ci tenevo ci tenevo a sollevare questo punto perché non è arrivare al punto veramente deve essere così poveri di contenuti così poveri di trame così poveri di arte non hanno né arte né parte questi personaggi a livello cinematografico poi come comici giullari sono anche simpatici un figlio a fare un film demenziale ma demenziale che però offende Gesù Cristo è veramente una cosa vergognosa e come se io facessi domani caro Ficarra caro Piccone facessi un film prendendo la foto di un vostro genitore che è morto e dico torna sulla terra a pinco pallino e lo prendo in giro e la stessa identica cosa non cambia nulla perché chi ha la fede cristiana reputa Gesù quale padre quindi è la stessa identica cosa vi sembra normale vi sembra non vi sembra una cosa normale quindi avete poco da gioire perché non sapete non sapete quello che state facendo non me ne siete regi conto a chi avete offerto la vostra carriera si farete successo si avrete anni di gioia poi finirete come tanti artisti che si sono venduti a satana che arrivati a 50 60 70 anni faranno una fine nel buio più totale veramente triste veramente triste io non voglio boicottare nulla ma io invito chi è che crede in Cristo a non vedere questo film perché è un film che offende Gesù Cristo manca manca solo la bestemmia manca solo la bestemmia poi c'è tutto c'è tutto e veramente mi dispiace per voi prego per voi prego per voi perché avrete un futuro bruttissimo dopo questa vita bruttissimo quello che avete fatto è una cosa gravissima per chi ha fede in Cristo voi ovviamente avrete fede nel dio denaro e basta quindi avendo fede nel dio denaro avete fatto una cosa bella per vendere dei biglietti complimenti complimenti fate un pollicione per questi due personaggi che veramente hanno hanno finito hanno finito finito la loro carriera almeno per me almeno per me per tutti i cristiani per tutti i cattolici avete finito la vostra carriera completamente potete potete evitare di andare in tv avete finito la carriera mi dispiace perché in certi tratti eravate anche simpatici ma dopo questo dopo questa caduta di stile dopo dopo aver venduto l'anima al diavolo avete mi dispiace per voi mi dispiace per voi l'unica cosa che ci rimane è pregare per voi pregare per voi perché un giorno troviate la fede se non sarà troppo tardi gesù vi perdonerà noi no gesù vi perdonerà noi dubito detto questo vi saluto complimenti ficare piccola bella figura bella figura c'è poco da ridere ragazzi qua c'è poco da ridere è veramente una cosa di una tristezza incredibile la cosa bella sapete qual è che sono due codardi questi qua sono due codardi perché perché non lo fate su maometto su alla questo film se avete un minimo di palle giullari di corte ciao a tutti